Non c'è pace per la ricostruzione dell'Aquila e l'ennesima inchiesta dei carabinieri del comando provinciale lo dimostra. Se da un lato si è puntato a mantenere il massimo riservo, vista la delicatezza delle indagini, dall'altro, sfogliando l'ordinanza, emergono particolari che ancora una volta sono destinati a suscitare indignazione. Così, come era accaduto per il terremoto del 2009, anche nelle intercettazioni telefoniche che emergono da questa inchiesta, viene fuori l'imprenditore che ride, pregustando gli affari che deriveranno dal terremoto del centro Italia. All'Aquila, all'epoca, fu Francesco Piscitelli, ora l'imprenditore che ride, ma che ora non riderà, è Giuseppe Giustino di Altamura, presidente della Società Internazionale, quella che sta ristrutturando il teatro comunale dell'Aquila, intercettato nelle carte della procura sulle presunte mazzette negli appalti pubblici del post terremoto. Lo stesso giudice per le indagini preliminari, Gargarella, nell'ordinanza scrive ride in maiuscolo. L'uomo, che ora ha gli arresti domiciliari, parla a telefono con Leonardo Santoro, anche lui arrestato, delle commesse da prendere ad Amatrice. Santoro, in particolare, gli racconta quello che ha detto a Lionello Piccinini, dipendente del MIBAC d'Abruzzo, a sua volta finito ai domiciliari, dopo il terremoto del centro Italia. Se ti posso essere utile, voi fate l'elenco. Mo dovete fare uno screening dei beni sotto vostra tutela. Se vi serve qualcosa per i puntellamenti, via dicendo, noi siamo a disposizione, racconta Santoro a Giustino, che ride più volte. 200 pagine di ordinanza, con figure che appaiono ciniche e che cercano nuovi incarichi, grazie ai rapporti diretti con i pubblici funzionari. Santoro, riassume il GIP, spiegava al suo datore di lavoro, che presso il MIBAC era stata creata un'unità di crisi per valutare i danni ai beni architettonici. Giustino, sentite le parole del Santoro, dice Gargarella, ha riso in maniera beffarda della nuova situazione venutasi a creare, in quanto per l'impresa e il nuovo sisma non avrebbe potuto che portare nuovi introiti, tanto più se l'appoggio di Piccinini e Marchetti, altri due arrestati funzionari del MIBAC inseriti nell'unità di crisi, non sarebbe venuto meno. Insomma, scenari inquietanti e probabilmente un'inchiesta che si allargerà a macchia di le operazioni, i 10 ai domiciliari sono Lionello Piccinini dell'Aquila, geometra del segretariato MIBAC, Antonio Zavarella di Sulmona, presidente della commissione di collaudo del teatro comunale, Berardino Di Vincenzo dell'Aquila, ex segretario regionale MIBAC, ora in pensione, Marcello Marchetti dell'Aquila, architetto del segretariato MIBAC, Mauro Lancia di Pergalo, contitolari della Lancia SRL con sede a Pergola, Gian Piero Fracassa, direttore tecnico della Fracassa Rinaldo SRL di Teramo, Vito Giuseppe Giustino di Altamura, presidente del CDA della Società Cooperativa Internazionale, Antonio Lojulice di Altamura, amministratore unico dell'Edilco Altamura, grazie a Antonio Lojulice di Bari, suo figlio Leonardo Santoro di Avigliano, geometra dell'Internazionale. Per cinque persone c'è il divieto invece di esercitare per due mesi l'attività professionale, Giancarlo Di Vincenzo, figlio di Berardino, Alessandra Delcane, Michele Fuzio, Domenico Pazienza e Michele Buzzerio.